ecco ora siamo all'aereo di punta non c'è più gente tipo gli ombrenni un'attivissima massa ecco la verde ecco la verde ahi io devo trocarlo perché non c'è Questa è la famosa strada. Questa è l'ingrocio più grande del mondo a livello di passaggio pedonale. Volevo dire che il mio greco sicuro non pagano corrente gratis. Questa è la famosa strada. Questa è la famosa strada. C'è la città della città della città. mi sono informato dove dovevo andare c'è un macello di gente come si fa a camminare con tutti questi ombrelli dobbiamo andare a cercare il nostro treno scusate ma sono distratto questo è un vagone antico con la luce si nota trasformato in ufficio informazione ecco qua il vagone ma come te non è male j.a. devo andare a cercare la shimbuya station j.a. j.a. io devo andare a chingiuku dobbiamo andare a capitare a vedere mamma guarda quello lì quello lì arriva la trasformazione dall'angolo è piegato poverino c'è una volta che c'è tanta gente così piegata cercano le masse piegate non so per quale motivo allora io qui devo cercare scusate ci vediamo dopo qui diventa un macello adesso scusate ma